Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata nel pomeriggio il presidente francese François Hollande. L'incontro alla presenza di un interprete nello studio del Papa accanto all'Aula Paolo VI è durato circa 40 minuti. Ad accompagnare Hollande c'erano tra gli altri il ministro degli interni francese Bernard Cazeneuve e l'ambasciatore presso la Santa Sede Philippe Zeller. Hollande ha donato al pontefice una porcellana di Sèvres con lo stemma della Francia. Francesco a sua volta ha donato al capo di Stato francese una scultura in bronzo opera dell'artista Daniela Fusco che intende rappresentare in modo visibile la profezia di Isaia. Il deserto diverrà un giardino. Il ramo secco e spinoso che si copre di foglie e di frutti rappresenta il passaggio dall'egoismo alla collaborazione, dalla guerra alla pace. Il Papa ha poi offerto al presidente Hollande una copia dell'enciclica Laudato Si e delle esortazioni apostoliche a Moris Letizia ed Evangelii Gaudium. Dopo l'udienza con il pontefice Hollande ha incontrato il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin. Prima del colloquio privato con Papa Francesco il presidente francese rispondendo alle domande di alcuni giornalisti aveva espresso gratitudine e riconoscenza al pontefice per le sue parole dopo la terribile prova dell'assassinio di padre Hamel e dopo l'attentato di Nizza che sono state di grande conforto.